buongiorno buongiorno a tutti 7 06 minuti in questo istante qui su cristal radio mercoledì 18 ottobre benvenuti un nuovo appuntamento con good morning milano la voce sensuale che sentite quella di lorenzo masieri e quella altrettanto fastidiosa di fabio ranfi buongiorno 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 allora qui in diretta dagli studi di milano all news in quel di san siro ormai lo sapete tutti siamo qua pronti per una puntata in vostra compagnia diamo i contatti le coordinate per sentirci per contattarci appunto 331 78 53 555 per messaggi buongiorno foto quello che volete che foto vuoi ricevere questa mattina ma sono le 7 07 devo ancora elaborare una bella brioche e vi ricordiamo che potete anche vederci sul profilo twitch di milano all news oltre che sentirci in streaming in dub 96.2 in fm potete anche rivederci e soprattutto incontrarci in ogni tanto andiamo lì passeggiamo io dopo le 9 5 però come se ormai l'abbiamo imparato fugotto 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 si dice giusto così dicono i giovani i giovani i giovani chissà se lo dice anche fra quintale sicuramente lo dice fra quintale allora sentiamo cosa dice invece insieme a coez in che colpa ne ho io non so cosa sapere veramente di noi come dice fra quintale croez ma sappiamo che oggi 18 ottobre sono successe delle cose sono successe un sacco di benvenuti all'almanacco del giorno molto molto prima accade oggi viene pubblicato il libro cuore che fortuna per tante studenti che hanno dovuto tutti tutti abbiamo assente tutti i giorni che sapevo che giovani rimanevo a casa nati oggi poi jean claude van d'amme il libro cuore è quello degli appennini alleanti è la stessa cosa il libro cuore è quello è un romanzo quello di amici in cui si narra di una scuola di una classe sì sì ma c'è un racconto che è capito no no ma è sì sì è una roba che c'è nel senso basta va bene è nato Zac Efron sì e Zac Efron ok roba tua non era una roba mia per niente ma è neanche roba mia scusa è una generazione tua no? sì no però a parte aver visto Esco il Musical eh no io avevo un passo ad elante anche l'ho guardato per poco tempo scomparsi oggi invece all'avanguardia ah no degli appennini alleanti è un altro libro di amici sono due libri separati si ho controllato questa cosa perché avevo questo ricordo scomparsi oggi Thomas Edison Antonio Meucci e Giuseppe Panini ma però tutti e tre cioè comunque scusate devo dire no degli appennini alleanti è tratto dal libro cuore è un pezzo di libro cuore scusate è uno spinò sì adesso ho provato se c'è qualche professore che può farci una lezione 3317853555 io ero assente quei giorni quindi non ho la giustifica per tutta la terza ho la giustifica firmata dalla mamma e dalla papà tutti e due le ho fatti firmare ah è morto oggi 27 anni fa hai detto hai detto aspetta hai detto Meucci ed Edison sì insomma nasce il 18 ottobre ti fa diventare un mezzo genio evidentemente no morire morire il 18 ottobre se fate qualcosa nella vostra vita sperate di morire il 18 ottobre così almeno siete in buona compagnia con tanti tanti altri geniacci tra cui anche però Panini Giuseppe Panini che non è quello del Panini giusti che conosciamo tutti è quello dei Panini giusti ma è quello delle figurine è quello delle figurine assolutamente la scritta Panini con la rovesciata che non mi ricordo da chi è presa credo che sia uno dei primi fake di AI in un certo senso cioè esiste quel calciatore ma poi l'hanno cambiato sì sì no certo certo però c'è una com'è che si dice mi sembra che sia stata Italia-Brasile quella famosa degli anni 40 però non vorrei dire cose su cui ero assente regolgiamo quindi sei stato assente per i primi 40 anni della Covid ho avuto un pre-Covid e quindi ho fatto un lockdown da solo dai 3 anni ai 23 Giuseppe Panini tutti sicuramente in casa abbiamo anche io spero anche la generazione da adesso perché per me era scontato andare la domenica mattina la domenica mattina scusa lo devo dire sempre quando dici domenica mattina sabato pomeriggio passerò tono andare in edicola e chiedere le bustine dei calciatori Panini e fare l'album io non so se adesso questo sarebbe bello attenzione whatsapp sul libro cuore vedi che abbiamo un pubblico quando parliamo di stupidate non ci scrive nessuno quando invece parliamo di cose interessanti allora buongiorno però vi chiedo questo firmate i messaggi perché non so chi siete quindi anche perché qui nell'iconcina ci sono dei pupazzetti cose strane anzi facciamo una cosa adesso vi do prima le indicazioni sul traffico o meglio ve le da luce verde quando torniamo vi dico che cosa pensa un 1989 del libro cuore ok allora adesso luce verde per sapere la situazione del traffico situazione intemporiale adesso su Milano bloody vinyl altalene insieme a slight supreme sattei corez e tutti quelli che passavano lì in vienovara li hanno tirati dentro hanno fatto il disco ovviamente quindi potevamo passare anche noi e ci tiravano dentro anche noi 7-18 minuti stavamo parlando di libro cuore di amicis perché cos'è che succedeva oggi usciva oggi veniva pubblicato quindi ha pubblicato il libro cuore ci scrivono da quel di bergamo buongiorno a tania che ci scrive da bergamo buongiorno buongiorno io sono dell'89 e il libro cuore a scuola non me l'hanno mai fatto leggere ne avevamo però uno a casa la mia nonna mia nonna mi disse che era un mattone che era meglio che leggessi altro complimenti e consigli della nonna però tutti l'abbiamo in casa un po' come la bibbia va bene sì sì sono d'accordo sono d'accordo va bene tu ce l'hai a casa il libro cuore? no la bibbia sì ma sì ma sicuramente se vai a cercare per bergamo devo chiedere a chi gestisce la casa io non ho idea sono assente non ho idea di cose io non sono assente tu sei troppo assente devo fare la radio devo fare il programma devo dirigere Milano il news ho responsabilità a proposito di radio ricordiamo subito ricordiamo una cosa triste domani noi non saremmo in diretta per ragioni tecnico-tattiche pratiche eccetera ci montano l'antenna no sono dei lavori elettrici nella zona della sede in realtà non siamo in onda solo noi cioè cristal radio è in onda domani poi a un certo punto solo che nell'orario proprio della nostra trasmissione fanno l'intervento quelli di Enel e quindi non ci siamo l'hanno fatto apposta posso dire li ho mandati io lo sapevo io lo sapevo lo sapevo notizie c'è qualcosa a proposito di panini volevo le due robe da ricordare all'inizio ah giusto sì giusto ricordiamo come sempre sono il fatto di giovedì e poi il fatto che venerdì dovete adapprendere la macchina molto probabilmente perché ricordiamo che ci sarà uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i mezzi di trasporto per quanto riguarda ATM fasce differenziate per mezzi di superficie metropolitane ricordiamo le metropolitane fino alle 18 andranno e poi inizieranno i disagi dipende chiaramente sempre dall'adesione bella notizia e poi invece per le fasce per i mezzi di superficie le fasce sono sempre le solite 8.45 15 18 sapete non dico nemmeno più no no quella in cui vanno quale in cui ci sono i disagi e questo avviene venerdì venerdì 20 venerdì 20 vabbè un altro sciopero a 15 giorni da quello precedente vabbè ormai 3 scioperi in un mese in 30 giorni vabbè vabbè dobbiamo secondo me allora tirarci su un po' il morale quindi adesso preparo una bella canzone di quelle che spaccano di quelle che ci danno una bella forza adesso qualche notizia invece prima? sì allora già che arriviamo al abbiamo parlato del 20 ricordiamo che il 20 ricorrerà l'anniversario dalla strage di Gorla del 1944 e colgo l'occasione per andarvi a vedere uno dei primi articoli che ho scritto l'anno scorso in cui Fabio e Milano News in generale hanno intervistato una sopravvissuta una sopravvissuta alla strage di Gorla i martiri di Gorla quindi andatela a vedere perché è veramente un pezzo di storia una delle interviste forse più toccanti che abbia fatto in vita mia è stata veramente qualcosa di molto 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 interessante e che mi ha colpito devo dire e come dico sempre questa strage qua uscito dalle scuole tu non sai nemmeno cosa sia no è vero è vero è una di quelle strage un po' dimenticate che poi scopri da grande ma anche l'intervista a Maria Luisa Rumi la trovate appunto con i miei carissimi martiri di Gorla esatto era il 19 ottobre del 2022 quando l'abbiamo pubblicata 18 ottobre e non l'abbiamo pubblicata il giorno dopo l'abbiamo pubblicata ok no il giorno prima 19 domani sì sì infatti infatti l'abbiamo pubblicata il giorno prima e vi invitiamo comunque ad andare a vederla appunto sarà è un pezzo di storia appunto di Milano che bisogna ricordarci maggior ragione adesso allora cerchiamo di ritornare su col morale musica 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 maestro e beh facciamo un po' di dancing dai datevi da fare cercate di darvi una mossa anche voi perché la giornata sappiamo che inizia in salita per molti insomma iniziare con il giusto passo magari se è un passo di danza è ancora meglio hai capito tu dici anche come una cosa te lo dicono non puoi andartene non posso non è una possibilità e no no e invece buongiorno a voi ben ritrovati anche a chi si è collegato solo adesso 7.31 minuti inizia la seconda mezz'ora di Good Morning Milano qui su Cristal Radio e ovviamente anche su Milano il News in cui potete vederci in diretta sul profilo Twitch e in differita on demand sul sito su Youtube e chi più ne ha più ne metta sui social per tutti i contenuti che riguardano ospiti eccetera eccetera ieri giusto puntata ricca anche oggi oggi vediamo 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 non diciamo non mi sbilancio non mi voglio sbilanciare non diciamo niente stay tuned continuiamo le sorprese stanno per arrivare continuiamo dopo la pubblicità no continuiamo con la rassegna stampa ieri abbiamo dato notizia che è partito è partito cosa il forum rigenerazione dal 17 al 27 ottobre uno di quegli appuntamenti alla milanese potremmo definirlo dai va bene glielo dico domani mi sembra abbiamo in collegamento Tancredi l'assessore Tancredi complimenti bella iniziativa alla milanese no vabbè però vabbè tutti lo dicono è inutile è inutile girare attorno quindi dico guardi tutti dicono che ma non tutti non è che lo dicono esplicitamente ma si sa che questa qua è una di quelle robe milanese in cui si organizzano ma lo sai benissimo anche te si si ma adesso faccio finta di fare quello puro si organizzano convegni eccetera ti ricordi la green week che aveva la controproposta che era la grey week si si avete visto Greta Thunberg si si arrestata a Londra e non è AI pensavo fosse un'altra foto di AI come quando hanno la foto dell'arrestamento del resto di di Papa Francesco di Trump invece no 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 è successo veramente è successo davvero comunque nel corso della prima giornata del forum della rigenerazione urbana c'è stato un blitz del collettivo cantieri che sono saliti sul palco mentre Maran era in videochiamata si sono avvicinati al palco per il siparietto Lego Milano Today siamo qua per presentare il premio più importante nella storia della pubblica amministrazione milanese il mattone d'oro solo e unico vincitore Pier Francesco Maran sostanzialmente il premio è simbolo della speculazione edilizia Milano dicono i ragazzi appunto del cantiere del cantiere letteralmente con la c maiuscola abbiamo voluto insegnirlo di questo premio per la sua grandissima abilità nel trasformare la città in un paradiso per gli investimenti immobiliari e per la cementificazione siamo oltre il tapiro d'oro adesso siamo al mattone d'oro e poi vabbè potete vedere il video mi piace cosa che dice siparietto dice Milano Today per far capire da che parte stare come dire siparietto non è vezzeggiativo è dispregiativo in questo caso vabbè ma queste cose qua non lo so io devo dire la verità quando ci sono dei giochi l'hanno fatto in maniera non violenta quando ci sono ah no ecco ultima ultima generazione stavo dicendo una cosa di interessante ultima generazione ieri voglio vedere ieri lunedì mattina poco dopo le nove hanno interrotto la circolazione all'incrocio tra Viale Scarampo e Viale Ginardo in zona Portello per un quarto io non dico niente io più per la posizione no no io per la posizione e so che se fossi lì con la macchina mi incazzerei perché sti qua venivano in mezza strada ma c'è l'unico modo che c'è per per parlare di questo tema secondo me e poi ripeto se non lo fanno in maniera violenta è tutto va bene cioè ci sta i giovani devono poter protestare un'altra storia un'altra storia e allora leggiamo un'altra storia dei giornali di oggi cosa troviamo proprio adesso che ti avevo detto che dovevo riprendere no allora non leggiamo un'altra storia torniamo sulla storia di prima e poi passeremo a un'altra storia i ganci le cose blitz dell'ultima generazione ieri mattina dopo le nove uno è anche stato preso a calci capisci che se uno rischia di andare a prendersi a calci in mezzo alla strada cioè se uno vuole rischiare questa cosa qui comunque perché ha un bisogno di far capire far sentire la propria ragione io sono d'accordo con la tematica non con le modalità lo continuerò a dire all'infinito a me questa roba qua non piace perché cioè la cosa è che poi quello che stavano dicendo fuori onda non c'è effettivamente un'azione concreta che segue manifestazioni del genere e questo lo devono fare poveretti da parte di chi può prendere delle decisioni ormai quando apriamo il Corriere la Repubblica eccetera sappiamo che in una città italiana c'è un blitz di ultima generazione è drammatico però che ci abituiamo a queste cose non posso dire che ci stiamo abituando non succederà chissà che devono incollarsi sul portone di casa di sala cioè andare a mettersi sui tralici della Eni non lo so nel senso capisci che anche i Cristi non c'hanno limiti a tutto il problema è che poi vanno a rompere le balle ai cittadini normali i cittadini normali cioè normali i cittadini qualunque tra cui magari c'è anche gente che ha un'anima green e che magari è anche solidale con il tema però poi accettiamo il fatto che ATM faccia uno sciopero ogni 15 giorni e metta un problema nella città del disagio invece non accettiamo questi ragazzi a vent'anni e con la testa che hanno a vent'anni come noi avevamo vent'anni nella loro testa forse anzi loro sono anche un po' più collocati nello spazio del tempo rispetto a noi che sognavamo grandi rivoluzioni in posti esotici non lo so crescono con la guerra crescono con la crisi crescono senza ma poi dovresti essere tu a difendere i tuoi fratelli i tuoi cugini a me queste modalità qua non piacciono poi ripeto si può essere perché io ce l'ho Fabio te l'ho sempre detto io ce l'ho con chi polarizza ma non sono loro che polarizzano siamo noi non lo so faccio un'autocolpa non lo so azioni di questo genere polarizzano il dibattito sulla questione ambientale che come dico sempre insieme ad altre due o tre è una roba che deve essere comune a tutto l'altro questo si fa pigliare a calci in mezzo a Piazza Ginardo si ma servono per i titoli poi effettivamente dillo su sedere che ha così calci però poveretto lo so ma infatti comunque invidio il coraggio che hanno nel fare queste cose io non ho mai fatto battaglie di questo tipo dico forse non lo dico chiaro dico forse che però ci sono altre modalità bravino da stasera inizio a scrivere lettere a tutti quelli con cui non sei d'accordo gliele spedisci in realtà la modalità democratica è quella scrivere lettere cambierà qualcosa 3317853555 scrivetemi per darmi ragione oppure per dare torto a Masieri va bene ma a proposito di Anima Green dico subito polarizzato in quanto giornalista subito polarizzato no però diteci la vostra 3317853555 non c'è limite di carattere a Whatsapp quindi potete scrivere qualcos'altro se volete potete tranquillamente argomentare le vostre risposte poi al massimo noi facciamo una microsintesi qualcosa del genere dando ragione a Fabio e andando contro di me no 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 a proposito di Anima Green gente che è sensibile al tema dell'ambiente alla mobilità appunto sostenibile grande tema in città eccetera Marco Mazzei consigliere della lista sala pubblica ieri questo girardengo un po' perché va sempre in bicicletta quindi andiamo avanti Marco Mazzei pubblica ieri un post su Facebook in cui scrive sempre meno ciclisti in città le piste ciclabili non le usa nessuno Corso Manforte un incubo quelli che vanno in bici non lavorano tra parentesi Corso Manforte direzione centro e allega una foto in cui effettivamente sulla ciclabile sulla famosa ciclabile di Corso Manforte ci sono una decina di ciclisti adesso non c'è la calca però una decina di ciclisti ci sono è legambiente che ha detto che la gente non usa la bicicletta a Milano esatto non l'ha detto l'opposizione non l'ha detto la Chrysler non l'ha detto l'ha detto un report di legambiente tra l'altro Mazzei sempre già che l'abbiamo citata cioè Mazzei lo ricorda e già che abbiamo citato legambiente lo ricordiamo anche noi che il il 22 ottobre che è domenica ci sarà la Mille Mila Bici che è sostanzialmente la pedalata nel cuore di Milano è la prima edizione della Mille Mila Bici grande pedalata cittadina gratuita e aperta a tutte le età eccetera eccetera l'iscrizione necessaria per attivare l'assicurazione scrivono sarà possibile iscriversi anche fino all'ultimo momento prima della partenza i primi 500 iscritti la maglietta di Mille Mila Bici in omaggio scrive Lega Ambiente Lombardia poi se volete andare a vedere per bene io vi dico solamente ore 9.30 Milano Piazza del Cannone domenica 22 ottobre molti partner molti promotori tutti principalmente che hanno a che fare con l'amministrazione regionale e comunale ma anche varie realtà locali che hanno a che fare con la mobilità sostenibile come Massa Marmocchi che conosciamo e FIAB Ciclobi eccetera eccetera questo quando dicevamo? domenica 22 ottobre ore 9.30 Milano Piazza del Cannone E adesso con i Daft Punk Infinity Repeating 7.48 minuti di nuovo qui su Crystal Radio di nuovo qui su Good Morning Milano assolutamente cosa abbiamo? cosa dicono i giornali? Lamberto ricordo sempre 331 7853555 potete scrivere magari lo dico proprio lentamente 331 7853555 potete scrivere i temi quest'oggi sono tanti e caldi figurine panini esatto avete in casa il libro cuore se o no scrivetecelo avete l'album delle figure di panini scrivetecelo siete favorevoli a ciò che sostengo su ultima generazione scrivetecelo scrivete a Fabio dando ragione a Fabio e no a parte degli scherzi ci interessa sapere anche la vostra su questo tema perché come sapete è al centro comunque del dibattito non solo milanese ma nazionale chiaramente anche se sostanzialmente sono le grandi città quelle che sono teatro di queste manifestazioni riprendiamo la rassegna stampa Lamberto Bertolè assessore al welfare del comune di Milano pubblica un post in cui riporta un titolo di La Repubblica Milano in cui sostanzialmente si riporta che l'idea di Palazzo Marino cioè il Palazzo Marino fa partire questo bando da 4 milioni per creare nuovi progetti a difesa della salute mentale l'idea di Palazzo Marino è quella di dare maggiore sostegno ai soggetti più fragili anche dal punto di vista abitativo e lavorativo credo sia uno dei provvedimenti presi in seguito alla mental health no come si chiama non weak Milano for mental health ecco il periodo dedicato esatto non è la weak tra l'altro visto che ci sono un sacco di eventi che adesso non sono più weak tipo adesso c'è Jetsme ci sono anche quelli che finiscono con me quindi adesso non mi ricordavo se era la weak della salute mentale sono di easy in me e weak in questo caso è Milano for mental health c'è altro? sì ok ti lascio la parola aspetta un attimo che devo districarmi un po' su queste robe tecnologiche è un computer ve lo dico per chi ci stia ascoltando e non ci stia vedendo questa cosa tecnologica è un computer portatile normalissimo fatto di tasti mouse e trackpad poi cosa c'è? monitor e una piccola scheda video dentro che fa funzionare il monitor questa è la grande cosa tecnologica si chiama computer comunque Masieri so che all'alberghiero non lo potevate cuocere ma è quello comunque ed è riuscito a romperlo in questo momento credo ce l'hai fatto? ok no no riuscendo ho perso ciò che volevo dire ho perso il filo no allora andiamo con un po' di musica se vuoi possiamo parlare anche a caso ok ma non credo che chi ci stia ascoltando sia qui per sentire i nostri sporloqui a caso e allora andiamo con un po' di musica sempre qui su Cristal Radio anzi ringraziamo l'ufficio programmazione perché tutte le mattine ci aglieta con tanta buona e bella musica ricordiamo Cristal Radio 96.2 FM oppure DAB Plus DAB Plus cos'è? quella roba lì della radio digitale che magari magari pensate anche di non avere ma invece avete sulla vostra autoradio basta schiacciare il tastino mode e potete tranquillamente trovare la vostra la nostra scusate stazione la vostra stazione del cuore cioè Cristal Radio se invece volete vederci o ascoltarci magari grazie all'internet potete farlo grazie a Milano News andate sul sito di Milano News c'è il nostro la nostra copertina con Good Morning Milano in cui c'è solo la mia faccia volevo dirlo appunto in quanto vero conduttore del programma e questo qui si serve solo per leggere di passaggio di passaggio qui no in realtà perché non abbiamo ancora fatto la foto per il sito te dimmi no in realtà l'abbiamo fatta allora l'ho persa credo dobbiamo ricercarla tu ce l'hai perché manda non so dove sia ma potete trovare appunto sul sito di Milano News tutte le nostre puntate e adesso poi stiamo implementando anche la possibilità di rivedere tutti gli ospiti tutti gli sketch le telefonate ma comunque tutto questo lo trovate già all'interno del nostro canale YouTube YouTube cercate Milano All News oppure Good Morning Milano oppure Lorenzo Masieri no non cercate Lorenzo Masieri su Google però oppure cosa potrebbe venire fuori eh vengono fuori le foto di un mio profilo vecchio di MySpace no ma io a parte che sono diventato social tardissimo tipo in quarto superiore non vabbè sapessi io già lavoravo no vabbè per ragioni anagrafiche ah sì no io già all'elementario avevo delle persone che avevano iniziato a pubblicare qualcosa su Facebook tra l'altro lo ricordo scusa chi sono le persone che pubblicavano cose in casa tua vuoi capire non in casa mia a scuola ah scusa ho capito che in casa tua c'era gente a scuola a scuola il problema è che le maestre avevano già iniziato a cogliere gli albori di Facebook che comunque c'era un problema di sicurezza per una bambina soprattutto ma anche per un bambino che poteva scrivere e postare ciò che voleva su Facebook e quindi c'era un po' lo stato dall'ero ma meno male maestre intelligenti nonostante poi quello che è venuto fuori però complimenti ecco perché dai andiamo con un po' di musica adesso questi sono in tre ma c'è uno che fa una canzone da solo c'è Coex dentro no stranamente no e non c'è neanche Neffa che è un altro o Jax che hanno queste manie di protagonismo insieme a tutti gli altri no Travis Scott Bad Bunny and The Weeknd la canzone è K-pop Roxy Music More Than These 8 e 09 l'abbiamo lasciato sfumare tutta perché te la devi godere fino alla fine questa qui dei Roxy Music no mi stavo domandando se Roxy Bar prendesse il nome dai Roxy Music o se secondo me forse c'era un altro Roxy Bar più famoso da cui poi hai preso il nome e quindi i Roxy Music potrebbero prendere il nome a loro volta dal famoso bar per me i gradi che riguardo il Roxy Bar si fermano a Roxy Bar di Bologna dove è nata Vita Spericolata e non solo da cui credo abbia preso il nome poi Red Ronny per la sua trasmissione cioè lì sì credo che abbia preso da Roxy Bar no perché Red Ronny penso fosse c'era molto amico di Vasco ai tempi ma anche adesso Vasco tutte le volte che fa a parte che vabbè momento Vasco c'è abbiamo Radio Carlo Monguzzi abbiamo anche Radio Vasco momento momento Radio Vasco quando deve presentare un disco principalmente per quello si muove Vasco non per altro al momento va sempre concedere sempre un'intervista lunghissima in cui spiega canzone per canzone a chi? a Red Ronny mettendo sempre in guardia all'inizio che adesso non condivide niente di ciò che dice il conduttore mi fai insieme nonostante il fatto che adesso uno diciamo creda beh devo dire che Red Ronny dal punto di vista musicale da quello che ha fatto per la musica io lo adoro adesso bisogna capire se bisogna far come Vasco bisogna dissociarsi dal resto che dice Vasco si dissocia e poi però gli concede l'intervista più lunga assoluto questo fa capire l'intelligenza dell'uomo Vasco io sono un po' di parte perché devo dire la verità quasi mi piace adesso la dico grossa quasi mi piace più come uomo non so come non fisicamente ma proprio come come essere umano piuttosto come cantante cioè cantante secondo me si belle ma alcune cose ma proprio da livello umano io lo adoro perché secondo me ha proprio trovato la sua strada è un uomo libero da quel punto di vista sembrerebbe un uomo libero e soprattutto è comunque disponibile perché sai che c'è il pellegrinaggio per andare a socca c'è il pellegrinaggio e lui ogni tanto esce se può poi quando non c'ha voglia vuole stare tranquillo o non esce o prende se ne va a Los Angeles mette fuori la cravatta il calzino sulla porta mette quando non vuole essere disturbato in un intervista in cui aveva appena iniziato questa roba qua di andare a Los Angeles per registrare i dischi e staccare un po' lui diceva che almeno lui riesce andare a prendere il pane eh sì ma che giustamente evidentemente nessuno sa chi è ma è un po' quello che c'è anche Tiziano Ferro quando è andato a vivere a Londra e poi a vivere a Los Angeles anche lui adesso dove vive Tiziano Ferro non lo so che si è divorziato non lo so è tornato a vivere dai genitori e non lo so non penso che debba tornare a casa dei genitori povero Tiziano povero Tiziano si scherza si scherza sei veloce qualcosa sì? continuiamo con la rassegna stampa velocissimo ieri è stato inaugurato il nuovo palazzo di Via Verdi abbiamo visto chi segue il sindaco su Instagram ha visto che ha pubblicato numerose storie per questa cosa pubblica per andare in bicicletta e poco altro nuove sostanzialmente undici piani in Via Verdi struttura che andrà ad ospitare tutti quegli spazi che evidentemente sono sempre mancati anzi al teatro La Scala tra uffici e sale prova eccetera eccetera Via Verdi si trova dove? no non so di fianco alla Scala era facile la stanza che va dalla piazza della Scala fino a a Brera diciamo quella via lì quella che va allora va bene ok non lo sapevo non lo sapevo sì sì proprio lì per quello appunto saranno io sono più più come Walter guardo più fuori è più in periferia è più in periferia secondo me il nostro Walter Cherubini che anzi potete ritrovare da sua intervista ieri appunto era stato qua con noi giusto era stato qui con noi Walter Cherubini oggi trappamente riusciremo a fare un esterno insieme a Walter perché stiamo continuando a raccontare gli undici gli undici comuni che quest'anno fanno il loro compleanno il centenario dell'annessione degli undici comuni eh sì sì degli ex comuni lo so bene che adesso sono quartieri Baggio Vigentino e ricordiamo una cosa Walter ieri è stato ai nostri microfoni come tutti i martedì e Walter con la sua consulta periferia in Milano è ambrogino d'oro fresco fresco del 2022 sì 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 ricordiamo che ieri no scusate che lunedì sono state proposte in consiglio comunale le 200 oltre 200 personalità candidabili candidabili sì a vincere l'ambrogino d'oro andete qualunque basti di passare urlavi un nome anche tu andava bene secondo me sai quegli spezzoni dello spoglio durante le elezioni del Presidente della Repubblica Valeria Marini sì sì è vero un po' di quello dall'altra parte mi immagino un po' come una riunione di condominio dove chiunque può urla la sua butta lì però c'è una commissione adesso che appunto con il consiglio comunale decide poi chi sono i 30 e qualcosa perché alla fine non sono pochi non sono pochi perché sono divisi tra associazioni sostanzialmente e poi personalità poi c'è le medaglie poi c'è le medaglie le benemerenze sì sono un po' cioè dovremmo fare le cose un po' difficile sempre poi c'è il miglior attore non protagonista sì è il miglior attore protagonista che io permetto di candidare il signor Monguzzi Monguzzi si è protagonista ovviamente iper protagonista iper 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 andiamo avanti con un po' di musica parliamo di Ed Sheeran con la sua Celestial o Celestial secondo te Celestial non lo so comunque lui sappiamo che essere invece giusto così si legge ed è lui Ed Sheeran Ed Sheeran Celestial alle 8 e 18 minuti ben ritrovati qui su Cristian Radio 331 78 53 555 il nostro numero di whatsapp grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo grazie Marco Giulia Alberto e Francesca grazie mille per i messaggi che ci avete mandato e per il buongiorno ho fatto un assunto grazie per i vostri messaggi perché sono tutti buongiorno buona colazione buona giornata continuate ci piacciono questi messaggi poi faccio il assunto non ti è che continui a parlare perché io ci tengo a dire che Fabio ha cercato prima mi ha fatto Mateso il trappolone però ha cercato su Maps dove fosse via verdi avevo il dubbio tutte le volte che c'è una cosa a parte che oggettivamente per gli anni che ho come direbbe Carolina Crescentini in Boris o gli anni che ho comunque conosco conosco Milano però ti dico che a Milano qualsiasi via dov'è c'hai 30 anni tra parentesi tra parentesi tra anni tua sorella ti dico tra parentesi che a Milano ci sono più di 4.000 tra strade vie piazze vicoli strade private ho cercato ho cercato adesso sul database in comune però ragazzi ma potete notare la velocità con cui però vi do notizie cercando su Google tutti i milanesi hanno questa roba qui sono chat GPT 3.0 anche io nel mio piccolo ho questa roba qua che per me si dice una via vicino a quella lì vicino a quella là vai di là il Monte Rosso vabbè siamo fatti così che dobbiamo fare un po' come i romani quando gli chiedi dove andare a portare stai pensando all'impero romano? no non sto pensando io non penso mai all'impero romano no? no no anche perché ripeto che per me la storia inizia dalla prima guerra mondiale in poi prima sono completamente ignorante ah no pensavo completamente inutile pensavo forse tutto certo che è utile purtroppo ho scarsa attenzione quando si parla di cose troppo lontane quindi per te i sette nani i sette re di Roma sono la stessa cosa? no non c'è differenza non così tanto perché c'è il capitano ah giusto giusto l'ottavo re di Roma l'ottavo re di Roma no è come quando i romani ti dicono c'è sempre la deformazione professionale del romano che quando dov'è che porto la macchina la porto da un amico mio c'è sempre questa cosa e noi abbiamo la cosa del vai prendi di là a milanese non serve un navigatore chi vive a Milano da più di dieci anni ti dirà sempre no ma prendi quella strada lì no ma fai quel giro lì io metto il navigatore no 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 poi la circonvalla non è che la fai sempre c'è un orario in cui no quindi fai quella esterna purtroppo la fai sempre per alcuni purtroppo la fai sempre io faccio delle strade pazzesche perché la imbovisa passo dalla nuova te milanese a girare la circonvalla cose che solo noi milanesi possiamo capire effettivamente ma che effettivamente è così sì c'è sempre questa roba qua della via sono stato dove è zona via ah ma vicino a quello che sta sempre 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 così sempre così ebbè questa è Milano questa è Good Morning Milano qui su Cristal Radio e vi ricordiamo sempre anche su Milano News in quanto siamo in diretta in questo momento dagli studi di Milano News in quelle di San Siro se dopo volete venire a prendervi una briochina con noi noi alle 9 stacchiamo e siamo qua in via Novara 331-78-53-555 possiamo mangiare insieme cappuccio e brioche non io solo brioche cappuccio e brioche non bevo caffè tu bevi caffè? sì ma non il latte non il latte quindi caffè corto caffè corto io ginseng espresso io ginseng espresso normalissimo io da buon maschio alfa bevo il ginseng insomma un po' però mi piace che presa di posizione forte sì sì mi piace molto il ginseng piace molto tazza piccola o grande? piccola rigorosamente piccola rigorosamente piccola è una delle cose più dolci che ci sta al mondo ma mi piace tantissimo c'è proprio lo zucchero secondo me mettono dello zucchero e poi un po' di ginseng dentro fanno così perché il ginseng di suo poi è amaro quindi appunto ci mettono una marea di zucchero e invece andiamo con un po' di musica questo è Mahmood rapide 8 e 31 Crystal Radio mercoledì 18 ottobre bentornati su Good Morning Milano ci avviciniamo all'ultima mezz'ora anzi siamo nell'ultima mezz'ora poi quando ci si diverte il tempo passa il tempo passa e passano le ore e non saremo l'amore oggi siamo bravissimi con perché non andiamo a Sarabà? perché non esiste più? facciamolo ho un'idea geniale facciamo una trasmissione dove ti faccio sentire dei pochi secondi di canzone tu devi indovinarla sono fortissimo e secondo me potremmo chiamare un titolo un po' così tipo Sarabanda eh ti piace? che ideo l'ho avuto questa è no vabbè non niente che poi no no non si può dire non si può dire mi fa morire che lui parte si autocensura non si può dire queste cose rimangono diciamo così queste cose rimane tra le pagine chiare e le pagine scure non dice mai queste cose rimangono no no non dice queste cose rimangono qualcosa rimane eh qualcosa vabbè è uguale rimane comunque lunedì giorno del consiglio comunale e Arianna Censi assessora mobilità di Milano ha riferito appunto al consiglio i numeri delle utenze di M4 ok aumentano progressivamente i passeggeri dell'M4 dopo il tratto tra Forlanini dopo l'apertura del tratto tra Forlanini e San Babila grazie 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 all'M4 ok secondo i dati prima faceva due fermate ma ne fa otto ci sta secondo la M4 ha secondo i dati la M4 ha poco più di 6.000 passeggeri a chilometro poco meno della M5 che ne ha quasi 8.000 più staccate chiaramente le altre con 16.000 passeggeri della M3 che vince il primato vince il primato la M3 va bene ma solo 8.000 la M5 vedi? beh effettivamente non sono cioè sono tratte nonostante i picchi bisogna capire se calcolano i picchi anche delle volte delle domeniche queste cose qua cioè delle partite però è anche vero ok che passano più spesso quelle al chilometro c'è scritto quindi è interessante perché vuol dire così che passano un treno 18 cioè quella è non cambia niente va standardizzato in base alla frequenza comunque io posso dire pensavo molto meno pensavo molto molto meno certo chiaramente il fatto di arrivare a San Babila chiaramente io immagino che il grosso arrivi da lì aiuta sì devo dire che è una misura effettivamente un po' afforbiante cioè faccio fatica a capirla cioè nel senso ho capito cosa c'è dietro però faccio un po' fatica a visualizzarla cioè 6.000 km uno non so quanti km sono la M4 non so quanti metri sono un km ero assente quel giorno ero assente anche il giorno no lo so che sono mille metri fanno un km adesso lo so la K sta per mille adesso voi giovani ha guadagnato 5K 10K 30K 5K sei povero adesso si dice K ok 5K povero si dice te l'ho insegnato stirato 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 si dice così vabbò vai altra notizia report sulla povertà alimentare di Action Aid e dai dati si vede che 6 milioni di persone in Italia il 12% dei residenti con almeno 16 anni di età vivono in povertà alimentare insomma per quanto riguarda la città di Milano la povertà alimentare coinvolge circa 215 mila persone e non è poco su 1.4 milione contando anche chi la povertà non lo saprà mai cosa è in vita sua insomma non è poco 200 dicevi? 215 mila persone a Milano insomma ricordiamo che c'è sempre quella distinzione lì tra insegnano anche sui banchi dell'università quando si parla lì lo senti davvero nel senso che non l'ho fatta quindi spiegamela bene tu adesso quando si parla di povertà assoluta e di povertà oddio non mi ricordo adesso non mi ricordo ecco che la senti anche tu però sostanzialmente povertà assoluta è veramente il minimo che non si riesce a a vivere a vivere l'altro è povertà di sostentamento cioè non fai fatica a sopravvivere adesso non mi viene il termine sì sì però c'è questo paniere dei beni che non mi ricordo quale associazione definisce forse l'oro è una roba internazionale paniere dei beni che comprende tipo sapone ok infatti sembra strano però comprende sapone non solo cibo quindi eccetera eccetera che è proprio il minimo per vivere in condizioni proprio il minimo sindacale per poter sopravvivere esatto e sotto quello è povertà assoluta poi c'è una soglia tra quello e il fatto di vivere comunque bene che si chiama in un'altra maniera che adesso non mi viene però bisogna sempre capire quando si leggono report oppure anche quando ci sono una piccola battaglia personale dei partiti politici che parlano di povertà e di povertà povertà relativa povertà assoluta e povertà relativa così mi dice diseguaglianzesociali.it no non mi ricordo ti dico la verità comunque quando ci sono soprattutto durante la campagna elettorale che si parla di poveri sono diminuiti i poveri sono ammettati i poveri eccetera bisogna sempre andare a leggere di che poveri si sta parlando cioè fatemi passare il termine ecco e niente ok beh dati però insomma molto molto allarmanti anche nella città di Milano che sappiamo appunto essere quella del modello Milano da una parte ma del modello che zoppica dall'altra continuiamo con un po' di musica salto nel passato loro erano i Fugees e questa è adesso ci prendiamo un momento tutti insieme questa è Killing Me Softly i Fugees con Killing Me Softly e noi entriamo anche noi dolcemente softly e entriamo bellissimo come piace a noi piano piano in punta di piede ci sono mille versioni di questa canzone questa forse è una delle migliori però non so assolutamente qual è la mia preferenza pensa che io l'ho vista cantare dal vivo al concerto di Fugees che nel 98 hanno fatto qua a Milano al propaganda l'ex propaganda ma allora sei vecchio eh sì sono vecchio e invece loro sono giovani invece o meglio insomma una volta erano giovani parlo dei pinguini tattici nucleari insomma una volta erano giovani ormai che voi ragazzi è pinguini la piazza sta arrivando eh sì 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 rubateci la notte dai rubatecela pinguini tattici nucleari 8 e 45 minuti sempre qui su crystal radio ben ritornati ben ritrovati eh Maseri ci abbiamo qualche bella notizia ancora da leggere o sono solo disastri no sicuramente non è una cosa positiva perché il comune di Milano sta continuando a come dicono i giovani spammare ok sui vari profili social che dal 30 ottobre 2023 è previsto l'aumento del ticket per accedere e circolare in area C lo sapete ne abbiamo già parlato più volte lo ultra ripetiamo visto che comunque sono ehm provvedimenti che eh generano un certo dibattito eh cittadino anche in consiglio comunale diciamo ci si tira gli stracci per la mobilità Milano come sapete benissimo insieme alla sicurezza e poco altro sono i temi che che tengono sempre banco ecco nel dibattito quindi ricordiamo dal 30 ottobre 2023 area C aumento del ticket ordinario da 5 a 7 euro e 50 ricordiamo anche che dal primo invece di ottobre sono scattate le nuove eh soglie per accedere ad area B con tutto appunto il relativo dibattito e quindi è andata a controllare per bene prima di evitare prima di ehm finire come quel signore che si è visto recapitare a casa centinaia di multe perché non si è raccorda continuiamo con la musica adesso passa il momento di Loredana Bertè ti piace la Bertè? ma si dai roba nuova però non andiamo indietro nella storia una delle ultime dai quella che dice figlia di quella lì quella lì dai 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 Loredana Bertè qui su Crystal Radio alle 8 e 47 minuti andiamo 8 e 50 ben tornati su Crystal Radio bentornati perché soprattutto abbiamo un grande ospite in collegamento con noi grandissimo ospite lei dice figlia di Loredana io sono figlio degli anni 80 quindi per me il coach Dan Peterson è un'istituzione della mia vita buongiorno a Dan Peterson buongiorno amici sportivi buongiorno a tutti coach sentirgli dire buongiorno amici sportivi è da pelle d'oca quindi grazie davvero per aver accettato il nostro invito l'abbiamo chiamata perché è stato proposto come ambrogino d'oro finalmente la città di Milano si è accorta della sua importanza cosa dice coach? innanzitutto essere proposto vuol dire candidato non è detto che vincerò o non vincerò mettere le mani avanti come si dice si entra papa e si esce cardinale quindi esatto fino oggi sono cardinale ok quindi vediamo se dopo viene ora qualcosa piacere vado lì a sabato vediamo cosa succede quindi molto gentile parte loro di non dimenticare coach lei l'ha scoperto come noi ieri o era stato avvisato? più o meno da voi ok perché io pensavo che fosse una cena poi mio manager mi fa tutto andiamo a Varese quindi non vado a approfondire di che cosa si tratta anzi mia moglie si rabbia con me perché dico come mai vai a Varese e dico ma non so mi vogliono fare una cena quindi sono pessimo in questo a informare la gente però adesso prima a Varese vostra email è stata veramente il primo whatsapp è stato il primo avvisagio ah bene ma quindi insomma che emozione ha provato quando ha saputo il punto di essere tra i candidati e continuiamo a ripetere candidati così facciamo un po' di scongiuri nel senso meglio ma ovviamente per questo riconoscimento una persona nella mia situazione non pensa almeno penso io non pensa alla gratificazione personale ma il fatto di essere riconosciuto per un buon lavoro o qualcosa così che il suo lavoro è stato apprezzato come il giocatore che viene applaudito dai tifosi eccetera quindi è un riconoscimento c'è proprio è una soddisfazione non è una cosa da vantarsi c'è proprio è una soddisfazione molto ma molto interna chiarissimo chiarissimo coach è un grande anno per lei questa presentazione poi abbiamo avuto abbiamo visto l'ultimo suo compleanno è stato un compleanno importante con tutto un palazzetto che l'ha applaudita non è stato il compleanno il 9 gennaio il palazzetto palazzo è stato 2 aprile che hanno ritirato il mio numero il suo numero 36 perché sono nato nel 36 ok quindi e allora e coincidentalmente anche magari non c'è una documentazione precisa ma la storia dice che io e l'Olimpia siamo nati lo stesso giorno 9 gennaio del 36 ok e quindi qualcuno dice beh non abbiamo la prova concreta ok io so che quando sono arrivato Boguncelli tanto per dire mi ha detto Peterson la società è nata proprio come è nata lei il 9 gennaio del 36 quindi se me lo dici Boguncelli mi basta così è la scientificazione per quanto non voglio non vorrei andare in giro a dire io sono nato però coincidentalmente questo è il collegamento con il compleanno e il numero 36 che 2 aprile l'Olimpia mi ha riterato il numero è un grande onore e ringrazio loro ancora per quel poco che valiamo anche noi diciamo Don Peterson e l'Olimpia Milano sono nati lo stesso giorno non diciamo così non diciamo Bocuncelli quindi possiamo dire anche noi Coccio prima di salutarla voglio fare una domanda quanti anni ha che ormai è a Milano lei 45 anni perché sono venuto nel 78 sono 45 anni chiaro e le piace ancora stare qui ovviamente Milano è molto cambiata come sappiamo tutti noi ok molto 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 diverso per diverse diverse cose però io sto bene qui ok c'è Milano e casa è difficile rinunciare ma ho vissuto più anni a Milano che tutte le altre poste della mia vita insieme ok anche mia moglie che è metà francese nata a Como metà italiana metà francese anche lei poi lei ha perso padre quando aveva due anni e mezzo quindi e quindi con la mamma che è milanese sono venute a Milano quindi anche lei si sente molto molto milanese perfetto perfetto coach allora grazie al milanesissimo Dan Peterson grazie mille davvero e non diciamo non dico niente non dico in bocca niente non dico buona niente magari ci risentiamo magari ci risentiamo la mamma butta la pasta anche se è ora della colazione ok perfetto perfetto allora come diceva lui numero uno ok va bene ciao ragazzi grazie coach grazie mille al coach grazie mille al coach Dan Peterson e noi siamo arrivati alla fine caro il mio Masieri lo sai dobbiamo chiudere qui dobbiamo salutarci perché è arrivata anche la nostra sigla finale